Buongiorno a tutti, da Alessandro di 4V d'Italia. L'argomento che trattiamo adesso riguarda l'elettronica, soprattutto sui motori turbodiesel, che è dove ha più senso, e la rimaffatura delle centraline. È una modifica che facciamo da tanti anni e che ha una serie di vantaggi, sicuramente un incremento della potenza, un abbassamento del regime di coppia, quindi i cavalli che sono presenti più quelli che vengono dati dalla rimaffatura delle centraline si sentono molto prima. Una mappa fatta bene ha anche un enorme vantaggio, che è quella di ridurre i consumi. La stima che abbiamo fatto noi è più o meno dell'8%. Molti abbinano, anche se non è una cosa assolutamente legale, il fatto di togliere il FAP. Ha un vantaggio di tipo tecnico, perché il motore 2.8 CRD di questo Wrangler tende a fare intasare il FAP in maniera anomala, quindi il fatto di togliere il FAP e poi adeguare la mappa elettronica ha questo tipo di vantaggio. Però è una modifica che comunque non è legale, quindi se il cliente la vuol fare noi la facciamo, però si assume anche le responsabilità. Noi invece consigliamo la mappa, anche per esempio in una situazione in cui si sviluppa una preparazione e si montano i pneumatici maggiorati, la prima cosa che succede è che si allungano i rapporti della Jeep. Il fatto di dargli più cavalli, dargli più coppia, fa sì che il motore sia in grado fino a una certa misura di gomme, dopodiché bisogna cambiare le coppie coniche, di tirare meglio le gomme, quindi è una modifica che viene fatta anche in funzione della preparazione. Se volete avere delle lucidazioni su questo tipo di servizio che noi diamo, sono a vostra disposizione, potete contattarmi via WhatsApp al numero 338 7312725. Alla prossima! Ciao!